Camite, vogliamo bene, torni a casa presto te, aspettami, aspettiamo. Non si è più vista né sentita. Al civico 32E di via Pergolesi sono ore che pesano come un macigno. Telefoni e campanelli squillano solo per la chiamata di amici e connazionali stretti attorno alla famiglia Mosammet. Gli agenti della squadra mobile, diretti da Luigi Di Clemente, seguono la pista della fuga volontaria anche sulla base di alcune frasi scritte su un diario. Ora si cerca di capire se qualcuno, ed eventualmente chi, possa aver aiutato la ragazzina nella fuga oppure ne copra il nascondiglio. Si scava tra amici e coetani della piccola per avere testimonianze e indizi. Per ora però nessun elemento utile all'indagine emerso, nonostante la polizia continua a nutrire speranze che la ragazzina stia bene alla base della fuga, o meglio della scomparsa, dissapori con il fratello maggiore che a 22 anni è diventato, a causa del pessimo stato di salute del papà, il vero capofamiglia, colui che non avrebbe accettato le pretese troppo all'occidentale di Camite. Le ore d'angoscia della famiglia si uniscono a quelle di superlavoro da parte degli inquirenti, che fanno appello a chiunque possa riconoscere in foto la ragazzina a contattare la polizia. La scomparsa di Camite si va a sommare a quella di Rossella Goffo, funzionario della prefettura di Ancona, scomparsa dallo scorso 5 maggio. In quest'ultimo caso le speranze si vanno affievolendo. L'obiettivo è di evitare un'ennesima puntata di Chi l'ha visto.